No, sorellina, non farlo! Voglio dire, il cucciolo è adorabile! Scordati, un cane vampiro! Dai! Il cucciolo è innocente! Chi è un bravo ragazzo? Mi ha morso! Oh no! Cosa succederà? Il mio cane? Voi non mi avete visto! Avete visto? Era un vampiro! È assurdo! Un vampiro l'ha morsa! Le toglierò gli occhi di dosso! Ora chiudo l'armadietto! Acqua! Ti avevamo avvisata! Sorelle, sto bene? Sì, nessun cambiamento? Devo esserne sicura! Dov'è il mio riflesso? E se usassi il telefono? Oh no, sorellina, mi sono trasformata in te! Che scema! Usi la fotocamera sbagliata! Guarda il riflesso in un cucchiaio d'argento! E in ragione, è sempre lo stesso! Oh, sorella, sei pallida! Ho un'idea! Fuoco? Ci serve un portale per un negozio di trucchi! Il portale è aperto! Basta prendere la cipria, il mascara, l'ombretto... Ti serve una borsa? Sì, grazie! Aggiungi anche l'illuminante e il fard! Grazie per aver fatto shopping! Fatto! Ma chi paga? Ops! Terra? Terra? Sì, certo, prendi! Ecco a te, sorellina! Siediti! Ti trucchiamo noi! Ti renderemo più... Pop! Io aggiungo il farde qui! Fatto! Allora, come sto? Sto bene? Eh, sì! Oh no! È peggio di quanto pensassi! Il battito è sparito! Così non va! Qualcuno si sta avvicinando! Come catturare i vampiri da zero! Un lampadario d'aglio! Un paletto di legno! Dov'è acqua? Non posso nascondermi qui! Nemmeno qui! Nemmeno qui! Sorelle, aiutatemi! Ho un'idea! Ragazze, ciao! Cosa state facendo? Una giornata di spa? Oh, che carine! Ok, vi lascio fare! Oh no! Siamo in ritardo per il test! Fuoco, devi salvare la situazione! Avrai ciò che desideri! Tenite! Ce l'abbiamo fatta! Yuppie! Cosa? Ehi! Ops! Sono spuntate le zamme! Quante probabilità ci sono che nessuno se ne sia accorto! Sei un vampiro, vero? No! Ma come? Eh, basta con gli scherzi! Prendi questo! Oh, lo sapevo! Non farlo! Rubè il suo diario! Preso! In arrivo! Colin è innamorato di un vampiro! Scioccatte! Ridommilo! È il mio diario! Prendi pure! Ciao! Ma che? Colin! Smettila di scherzare! Mi scusi, professore! Vai in classe! L'argomento di oggi è come identificare i vampiri! Oh, cavolo! Emozionante! È finita! Iniziamo dai capelli! In pratica è così! Questo è il loro stile! Che disastro! È il loro nascondiglio preferito? È sotto la scrivania! Mi assomiglia molto! Sei un vampiro! Devo salvare mia sorella! Cosa? Portale! Wow! Professore! Ehi, mettimi giù! Che cosa fissi? Mi scusi? Ho un'idea! È un vampiro! Non c'è dubbio! La mia lavagna è delle indagini! Ecco chi andrà al centro! Dov'è la mia valigia? È ora di cambiare la serratura! Non puoi catturare un vampiro con una trappola per toglie! Una manza? Forse la prossima volta! Non c'è! Ah, troppo presto! Un travestimento! Certo! Cosa facciamo ora? Alla mamma! Nascondetemi! So cosa fare! L'Edera ci aiuterà! Ups! Ehi, ragazze! Dov'è vostra sorella? Sta pranzando! Nella doccia! Era sotto la doccia e ora sta pranzando! Meraviglioso! Vi voglio bene! Divertitevi! Ragazze, vi devo un favore! Wow, mi hanno chiesto un appuntamento! Ma chi è? Non andare, ho un tipo losco! Smettetela! Sento che è il mio destino! Questo è amore! Sorella, smettila! Non puoi andare! Non ti lasceremo andare! No, no, no! Sapete cosa? Non potete fermarmi! È scappata! Prendiamola! E ora? Ho un piano! Un restyling! Sei proprio un guastafeste! Senti che parla! Sei senza cuore! E tu sei un egoista! Ne ho abbastanza! Aspetta! Siediti! È così bello! Tu sei bella! Tavolo sbagliato! Sono già lì! Bella barba! Wow, si tengono per mano! Edera, non deludermi! Gli toglierò la barba! Ah! La tua barba! Succede! Non funziona! Non importa! Ho un'idea migliore! Rendiamo le cose più calde! Ops! Sei tu! Che coraggio presentarti qui! Te ne pentirai! Io vado! Sono contenta che siate qui! Non ti lasciamo sola! Andiamo a casa! Ciao, mamma! Ehi, ragazze! Mi date una mano? Addio! Aspetta! Non posso farcela senza di te! La torta all'aglio non è facile! Taglia l'aglio a dadini, per favore! Ah, non ho un coltello! Fa nullona! Prendi! Argento puro, per l'amor di Dio! Non ci sono mai quando ne hai più bisogno! Cosa possiamo fare? Acqua si insospettirà! Ho dovuto annusare l'aglio e impugnare un coltello d'argento! Oh, un invito a una festa segreta di vampiri! Cosa? Oh, no! Oh, sì! Non ci andrai! Ci sto volando! Il pipistrello è troppo veloce! Prima di tutto, ci serve un portale per un negozio di costumi! Fatto! Ecco i mantelli da vampiro! E le zanne! Eccole! Via alla festa! Sono dei veri vampiri! Non vorrei mica bere questo! Ehi, sorelle! Questo è l'organizzatore della festa! E queste sono le mie sorelle! Piacere di conoscervi! Facciamo un servizio fotografico! Guardate qui! Le foto sono fantastiche! Grazie! Sorridi? Wow, il colore è così intenso! Tocca a te! Ecco! Ottimo! Non ti muovere? Avete già preso i vostri drink? Vieni con me! Benvenuta! Ma che vuoi? Mordimi e trasformami in vampiro! No! Qual è il tuo problema? Fai cure! Beh, ok! Lo farò! Cosa? Un cane! Sorella! Questo lo devi vedere! Fuoco va qui! Terra va là! Ho pianificato tutto! Ehi! Dove andate? Oh, cavolo! A nessuna interessa il mio progetto! Ripuliamo tutto! Questo letto dovrebbe essere spostato! Aspetta! Ma non riesco a spostarlo! Ok, Edera! Andiamo! Ottimo! Inizio a lavare il pavimento! Io sposterò lo scappale con un vento forte! Oppure no? In base al progetto, questo dovrebbe essere... Dimentica il progetto improvvisa! Il letto andrà qui! Ma dobbiamo costruirlo! Lo farò io! Preso! Fuoco, sbrigati! Sto arrivando! Oh no! Non ci sta! Ci starà! E' quello! Salvo i pezzi! Un secondo! Una scintilla farà sicuramente al caso nostro! Ci siamo quasi! Fatto! E' bello solido! Bel lavoro! Che caldo! Ti soffio un po'! Grazie! Ho trovato i bastoni! E adesso? Li pianteremo nei vasi! Aggiungeremo del terriccio! E faremo crescere un letto di legno! Cresci! Ha funzionato! Sarebbe pesca? Lo ridipingerò! Voglio che il mio letto sia del colore di un fiume! Oppure di un lago! Io ho trovato la tonalità di verde perfetta! Ce l'abbiamo fatta! Manca qualcosa! Una tenda! La magia dell'aria mi aiuterà con l'illuminazione! Ciao nuvole! Mi servono solo la luna e le stelle! Lo voglio anch'io! Lo voglio anch'io! Lo so! Una tenda a blu cielo! Con un arcobaleno! E' perfetta! Wow! E io cosa dovrei fare? Lo so! Farò crescere un po' d'erba! E decorerò il mio letto! Perfetto! Ho bisogno di più luce! E pianterò questo vicino alle scale! Continua a crescere piccola! Fatto! L'albero andrà al centro! Cavolo! A nessuno piace il mio progetto! E il mio letto non è finito! Sono furiosa! Wow! Non male! Nascondiamoci! Scusatemi! Ma almeno il mio letto è finito! Mi serve più fuoco! Anche se è di gomma piuma! Ritaglierò delle fiamme! E farò una cornice per il mio specchio! Wow! Lo appenderò proprio qui! Quasi dimenticavo! Un filo di luci infuocate! E' bellissimo! Voglio ravvivare anche io la mia stanza! Guarderò nella mia borsa! Argilla leggera e piume! Perfetto! Farò un uccello di argilla! E aggiungerò delle piume per creare le ali e la coda! Il vento è sempre con me! Oh, questo cipo è così pesante! Aspetta! Fatto! L'orologio di legno è perfetto! Puoi andare proprio qui! Che fame! Ma non è ancora ora di pranzo! Acceleriamo l'orologio! E' ora di mangiare! Miammi! Deliziosa! Sono tutte occupate! Non posso nemmeno scendere! Oh! Ti serve aiuto? Ci sono io! Questo scivolo ti farà scendere! Assicuriamoci solo che sia sicuro! Grazie, sorellina! Wahoo! Un vero scivolo! Aria! Mi gonfieresti questa piscina? Certo! Ma devi aiutarmi! Sto pompando! Funziona! L'hai gonfiata! Grazie! Non c'è di che! La piscina va qui! Ma come faccio a entrarci? Oh! Aria! Aiutami ancora! Mi dai una spinta, per favore? Ok! Vola! Sì! Appenderò una ghirlanda di meduse sulla mia piscina! Ho un'altra idea! Misurerò la lunghezza, la larghezza e l'altezza! Io ho trovato una corda e una tavola! Ora le unisco! Aria! Fai in modo che siano stretti! E dall'altra parte! Ora abbiamo un'altalena! Ed è fantastica! Perfetto! Farò un segno del mio elemento! E decorerò l'alberello! Aggiungerò il mio simbolo! Ottima idea! Ecco il mio! E anch'io aggiungerò il mio! Ora siamo tutte insieme! Questa mela è così succosa! Avremo un po' di fame! Volete una mela? Aspettate! Seppellisco il torsolo e uso i miei poteri magici! Che meraviglia! Wow! E ora posso raccogliere le mele! Buon appetito! Deliziosa! E se piantassi un telefono? Crescerà un albero del telefono! Chissà quanto tempo ci vorrà per crescere! Ci vuole troppo tempo! Ah, è inutile! Mi arrendo! Fuoco! Hai davvero provato a far crescere un albero del telefono? Tu sei pazza! Almeno ho provato a fare qualcosa! Iniziamo il film! Ma servono i popcorn? Passa questo a fuoco! Grazie! Ma che sta facendo? Perché mi fissate? Cuoci i popcorn! Ma è perché non l'avete detto subito? Versateli qui! Wow! Piovono popcorn! Buon appetito! Questo film è diventato molto più bello! C'è qualcuno in casa? Ciao! Come stanno i vostri... Ehm... Che vuoi? Mi piace come avete arredato la stanza! Guarda! Wow! È incredibile! Non ho mai visto nulla di simile! La compro per 10 dollari! Sì! No! E ora? Ci sto! No! Pagherò qualsiasi cifra! No! Questa stanza non ha prezzo! E non è in vendita! Forse dovremmo venderla! Non pensarci nemmeno! No! La nostra stanza è la migliore del mondo! È l'ora del bagno! Rallenta! Vado prima io! Acqua! Mi dispiace, ma sarò io la prima! Io ero qui prima di te! Andrò io in bagno! Sto per dare di matto! Ops! Ma dove siamo? Wow! Io volevo solo fare una doccia! Ah! Che succede? È un vulcano! Bel lavoro, fuoco! Questo è il mio bagno di lava vulcanica! Giù le mani! Potreste bruciarvi! Devo inventare qualcosa di speciale anche per me! Ad esempio... Una vasca da bagno con le nuvole! Sembra una figata! Aria! Il tuo bagno è fantastico! Anche noi abbiamo bisogno di una vasca per i nostri elementi! Queste pietre decoreranno la mia vasca da bagno! Ma perché sono così pesanti? E se usassi la magia del fuoco? Uno, due, tre! Più pietre ci sono, meglio è! E piccole fiamme! Potrei accendere una fiamma anche in un cuore di pietra! Ora sono pronta a fare il bagno! C'è un marafuoco! Al lavoro, tesoro! Oh sì! Meraviglioso! L'asciugamano può andare lassù! Wow! Ancora meglio! Un selfie per ricordare questo momento! La mia vasca sarà qui! Potenza dell'elemento, aiutami! Wow! Che bella! Devo fare un buco per l'acqua! Dovresti prendere un'ascia! Wow! Ha funzionato! Batti il cinque! Ora tocca a me! Potere della terra! Alla riscossa! Non ha funzionato! Ancora una volta! E' terra esilarante! Vasca! Fatti vedere! Oh poverina! Sta facendo del suo meglio! Questo posto è fantastico! Sai? Mi piace la mia vasca! Qui è dove andrà il prato! Wow! Va bene! Lo coprirò tutto con l'erba! Fatto! E ora mi scaverò da sola la vasca da bagno! Ma che sta facendo? Piantiamo un seme! Acqua! Puoi aiutarmi? Bene! Grazie! Oh sì! Ha funzionato! La mia vasca è pronta! Wow! Adorabile! I miei fiori preferiti! Vi trasformerò in un sapone profumato! Ha un profumo divino! Cosa? È un sacco di schiuma! Voglio un sapone così! Prendo questo bouquet! Lo voglio anch'io! Bei fiori! Anche io! Grazie! Beh! Ci proverò! Oh! Non c'è niente! Ah! Io ce la farò! Cosa? Un pezzo di plastica? Che schifo! Dilettanti! Ecco come fanno i professionisti! Ops! Cos'è stato? Aria! Piano! Il vaso è vuoto! Dove sono i miei fiori? Ah! Io non lo so! Ragazzi! Chi ha portato via i miei fiori? Scrivetelo qui sotto! Centro! Proprio come quelle favolose ninfee cresciute nella mia vasca da bagno! Spaventiamola! Boom! Wow! Ma come hai fatto? Giù le mani! È fragile! Finalmente posso godermi un bagnetto! Novola! Mi daresti una mano? Grazie! Ai! Oh! Stiamo per divertirci! Aria! Hai dimenticato lo shampoo! Oh, è vero! Ok! Grazie! Cosa? Ecco! La pioggia è passata e la nuvola di pioggia ora è luminosa! Sono in ritardo! Non ha funzionato! Pesciolino, nuota qui! Sì! Mi ha sentito! Ehi! Giochiamo! Anch'io voglio avere un pesce domestico! Andrò a pescare! Vieni da me, pesciolino! Aria non sa pescare! Cosa? Una vecchia scarpa! Non mi porterei via il pesce! Non è divertente! Che fa a terra? Quando hai finito il bagno devi asciugarti! E Aria? Oh, questo asciugamano è morbidissimo! Anch'io ho un asciugamano! Non più! Come faccio ad asciugarmi ora? Lo so! Ho un asciugacapelli! Wow! Ora è anche più carino! Che bello! I fiori sono ovunque! Aggiungerò fiori ad ogni parete! Il bagno è tutto sfarzoso! E ora un po' di trucco! A cominciare dalle ciglia! Oh no! È insopportabile! Mi serve uno specchio! Pronto! Ora posso truccarmi? Fai spazio! Anch'io ho bisogno di ritoccare il trucco! Questo specchio è mio! Fatemi passare! Ehi! 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 Ma che è stato? Ora basta! Sembri pazza! Ma guardati! Ragazzi, chi di noi ha il trucco più bello? Scrivetelo qui sotto! L'asciugamano è inzuppato! Che sta facendo, Aria? Mi aiuteresti ad asciugare anche il mio? Certo! Nessun problema! Sei così gentile! Grazie! Il fatto è che non abbiamo un posto dove mettere gli asciugamani! Ho un'idea! Un appendino per gli elementi! C'è spazio anche per il fondi fuoco! Avere una vasca da bagno tutta per sé è una sensazione fantastica! L'unica è sola! Siete ancora qui! Liberate il bagno! C'è la fila! Ops! Bene! Ce ne andiamo! Ho trovato una mappa! Andiamo! Ciao!